Musica Longo nights allow me to feel I'm falling I am falling, the lights go out Picorralo? Oh Alberto Quanto tempo abbiamo? Cento minuti Allora, ciao Alberto De Razzini, eccoci qua, comincia lunedì la nostra nuova avventura sulla sette, lunedì in prima serata, questo è il logo, cento minuti e saranno cento minuti di che cosa? Tanto ciao Corrado, non ci si vedeva così tanto da una ventina d'anni, è un piacere mi sembra, questo è il logo, cento minuti di inchiesta in prima serata, documentario di inchiesta in prima serata, io e te in uno studio bellissimo Un ospite, un ospite soltanto che intervistiamo e che aggiunge, che approfondisce, che rimane aggrappato al tema del lungo racconto Diciamolo ai nostri telespettatori che non è una cosa banale perché saranno veramente inchieste tra gli 80 e i 100 minuti, sono dei film inchiesta che richiedono mesi di lavoro, di ricerca, di naturalmente riprese, di montaggi E' un prodotto che non c'è, è lungo così, in prima serata su questa rete che sta ampliando molto le sue offerte e quindi è una sfida insomma che da qui pensavamo da tanto tempo E la prima l'hai fatta perché è una squadra di naturalmente di inchiestisti diversi che stanno lavorando anche in queste ore Faremo appunto queste prime serate a partire dal lunedì 8 aprile e la prima inchiesta è proprio la tua, va bene?